Vediamo in questa guida come aumentare al massimo la velocità di download di uTorrent. Per farlo, per prima cosa, una volta aperto il programma, ci richiamo in alto a sinistra su opzioni e selezioniamo impostazioni. Ci richiamo quindi in connessione ed andiamo a inserire in porta usata per la connessione in entrata la 46852, che è una porta di default che viene utilizzata da uTorrent e diciamo quella che preferisce. Una volta fatto questo, clicchiamo su applica e ok. Andiamo quindi attraverso il nostro browser o attraverso Simple Port For Boarding ad aprire le porte del nostro router. Ho già realizzato una guida al riguardo, quindi vi consiglio di mettere in pausa momentaneamente il video, andare a vedere i tutorial, il link ovviamente lo trovate in descrizione, per procedere così con l'apertura delle porte. Inseriamo sia come porta interna che come porta esterna o come porta iniziale e porta finale sempre la 46852 e come tipologia di porta andiamo a inserire sia TCP e poi ne apriremo un'altra anche in UDP. Una volta che avremo aperto entrambe le porte, mettiamo da parte e torniamo nuovamente all'interno di uTorrent. A questo punto clicchiamo su opzioni dal menu in alto a sinistra e selezioniamo configurazione guidata. Nel primo caso ci aiuterà a settare le impostazioni migliori per ottenere la banda di download più alta e nel secondo, se lasciamo la spunta, controllerà che la porta sia correttamente aperta. Se ne siete già certi potete togliere la spunta così da impiegare meno tempo per effettuare il test. In banda selezioniamo Milano Italia o la città più vicina che troviamo a dove abitiamo, nel caso lo dovesse raggiungere e clicchiamo su inizia i test. Una volta completato il test dovrebbe apparirci una spunta verde accanto a banda e una spunta verde accanto a rete. In questo caso vorrei dire che tutto è stato configurato correttamente. Nel caso della rete se doveste visualizzare una spunta gialla o una spunta rossa significa che avete aperto non correttamente la porta e quindi dovrete tornare a settare in maniera più corretta appunto i settaggi della porta. Bene, una volta quindi completato clicchiamo su salva e chiudi. Come ultima cosa da fare quando andiamo a scaricare un file come in questo caso io ad esempio adesso lo riavvio mentre stiamo scaricando il file clicchiamo con il tasto destro e in allocamento banda selezioniamo alta sempre tornando su allocamento banda andiamo poi a impostare come limiti di download illimitato e come limiti di upload il minimo possibile quindi nel mio caso 5 kb per secondo. Noterete fin da subito una differenza in velocità di download nel mio caso io ad esempio ho una connessione a 7 mega e sto praticamente scaricando alla massima velocità consentita per il mio download. Sì perché infatti ovviamente dovete tener conto che la velocità del download non dipende solamente da queste impostazioni che abbiamo settato ma dal numero di seed quindi al numero di persone che stanno scaricando contemporaneamente questo file e dalla velocità della nostra connessione. Tenete conto che una piccola percentuale di connessione viene sempre riservata per le altre funzioni del computer in modo da assicurarci di poter usare ugualmente il computer anche mentre stiamo scaricando altri file. Bene quindi per questa guida è tutto.